Attenzione, prova il sinistro! No! Vai ancora che buona! No! Ma non è possibile! Ma va, non ci credo! Benvenuti ragazzi, eccoci qua tornati in questo nuovo video. Siamo su FIFA 15, sempre con la carriera del calciatore virtuale. Quindi adesso andiamo subito a vedere e ci vediamo alla partita. Eccoci qua ragazzi pronti per questa nuova sfida. Speriamo bene di vincere come la scorsa partita. Dai 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 dai! Buona! Sì che sei veloce tu! Che qua dobbiamo assolutamente vincere il campionato. Ok, lo salta. Attenzione, prova andare. È sempre lui. La metti in mezzo? Ah! Ancora? Oh! È buona, è buona! Tirala qua! Prova! Stop e tiro! Uh! Angolo, angolo. Andiamo con sto angolo. Andiamo di testa! Uh! Finalmente l'abbiamo presa di testa. Abbiamo ancora angolo. Attenzione. Arriva! Dai buttati! Sì torna indietro. Come lo salta? Attenzione! Ah! Prova ad andare in velocità. Ma è ancora buona, è ancora buona. Che cazzo è? Ah! Fallo! Sì così! Tac! Tac! Prova al sinistro! Mamma mia! Taccalo! Sì che c'è! Bravo! Bella palla! Attenzione! Prova al sinistro! No! Vai ancora che buona! No! Ma non è possibile! Ma va! Non ci credo! E che buona! Guarda che buona! Bella palla! Prova il pallonetto! No! È rovesciata! Uh! Oggi... Partita spettacolo ragazzi! Tutti i numeri in sta partita! Ma pensate prima cosa è successo cazzo! Due pali! Andiamo in contropiede! Andiamo in contropiede! Dai che li salti così facili! Dai! Eccolo! Carica la bomba! Fanculo! Ma è la palla! Sì! Vai Fagner! Uno in mezzo! Qualcuno in mezzo! Ma che cross è! Ma che cross è! Ma dai! Ok! Finito il primo tempo ragazzi! Zero a zero! Ma potevamo essere già due! Tre a zero sicuramente! Ci vediamo al secondo! Eccoci qua ragazzi! Tornati con il secondo tempo! Dobbiamo assolutamente fare gol! Dai! Per forza perché... Questo campionato di scandalo... Oh! Dobbiamo vincerlo! Andiamo così a Busan Park! Bravo! Ah! Bravo! Bravo! Bravo un cavolo! Sì! Così! Dai qualcuno che parte! Oh! Bella palla! Cavolo si era più a destra! Punizione! Cambia il giocatore! Fa la finta! Gran fintone! Fuori! Ma va dai! Wagner se magari parti... Ma che buona! Tira! Rigore! Rigore! E andiamo! Rigore! Dai! Attenzione! Carica il destro! Carica il destro! Rete! E andiamo così! 1-0! Dai! Eccolo qua il replay! Pam! Spiazza nettamente il portiere! 1-0 per il Busan Park! Dai che ci siamo sbloccati! Dai che ci siamo sbloccati! Oh! Fall! Eeeh! Ah ma non è fallo? Ma... Come fa a non fischiare il fallo? Se lo salti siamo in porta! Se lo... Oh! E basta con questi falli! Dai il cartellino! Va! Che è cinese pure l'arbitro! Guarda che è andato di là! Bravissimo! Ah! E' buona! E' buona! E' buona! Allungatela un pelo! Sì! Mettela in mezzo! Eccolo! Vai di testa! Porco cane! Attenzione! Prova il sinistro da fuori! Ah! No! Uh! Meno male! Fa le finte! Attenzione! La mette in mezzo! Vai di testa! Dai andiamo di testa! Prova la botta da fuori a giro! Ma che tiro di merda! Chiudi! 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 Bravissimi! Anche io che ancora dà rigore! Cosa sta succedendo? Bella parata! Siamo al novantesimo! Dai eh! Dobbiamo prendere gol! No! Mamma mia! Al novantesimo stiamo rischiando di brutto! Che passaggio è? Chiudilo! Bravo! Andiamo... Via sta palla! Va! Ha già dato il recupero! Via via via! Chiudi la... Attenzione! Chiudi! Bravissimo! Oh arbitro! Vuoi fischiare o no? Eccolo qua! E andiamo! Eccoci qua ragazzi! 8.6 come valutazione per l'omino! Sa come mai ogni volta l'allenatore ci cambia! Però vabbè! Cosa dobbiamo fare? Per fortuna abbiamo rischiato all'ultimo di perdere questa partita! Ma... E' finita meno male 1 a 0 per noi! Quindi vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video!